Ma sì amici di Radio Cop, siamo noi pronti e carichi per una nuova settimana. Tanta musica come sempre, allora iniziamo subito. Venerdì 28 settembre è uscito il nuovo album di Veronica Marchi, Non sono l'unica, disponibile per l'ascolto e l'acquisto su tutte le maggiori piattaforme digitali e nei migliori store. La cantante veronese propone un interessante misto fra pop ed elettronica e con questo disco del cambiamento va alla ricerca di nuove sonorità. Andate a vedere il videoclip di Capita, singolo, che aveva anticipato l'album, uscito a maggio di quest'anno, che racconta con una sfida pacifica la relazione più importante di ogni essere umano, quella con se stesso. E ora la linea va a Tony Baciocchi. Ciao a tutti, due album oggi per ricordare due grandi personaggi. Uno, Joe Strammer, scomparso purtroppo qualche anno fa, il grande leader dei Clash, torna con un cofanetto in cui ci sono una trentina di brani tratti da sue produzioni un po' più rare, un po' meno conosciute, più alcuni inediti anche dell'ultimo periodo dei Clash. E poi Giorgio Canali, Rossofuoco, un grande personaggio, accionato con i CCCP, CSI, i PGR e poi ha intrapreso una bellissima carriera solista, cantautorato molto aspro, molto crudo, rock, veramente molto interessante. Ciao! Grazie Tony! E in occasione dell'anniversario della nascita di Ivan Graziani, Cortellino, uno dei nostri artisti, omaggia il cantautore con una cover di 140 km, canzone dedicata a Trieste e al suo vento. È il primo singolo del cantante triestino che ripropone un brano del 1983 in chiave fresca e moderna. Alla realizzazione del singolo ha collaborato anche Filippo Graziani, figlio di Ivan, che dopo aver ascoltato l'idea e la prima versione del brano ha voluto curarne personalmente gli arrangiamenti. E in concomitanza con il singolo è uscito anche il video girato a Trieste. Andatelo a vedere! E ora il nostro Carlo Maffini! Vai Carlo! Ciao a tutti! Oggi vi presento un disco di Lucinda Slim. È una cantante inglese che ha inciso questo disco in realtà nel 2015 ma solo in tiratura limitata in vinile. Adesso esce anche in digitale, un disco che ricorda i classici Motown con qualche venatura blues. Lei è una ragazza oltre che è cantante a DJ, collezionista di dischi, ha cantato insieme a Yusundur, Yagi Sorn, Sergio Mendes, Zap Mama e presenta un disco veramente fantastico. Poi lei ha una voce che assomiglia decisamente a Diana Ross. Lucinda Slim. Wonderful! Grazie per essere stati con noi! 3 minuti con Radio Cop torna come sempre lunedì prossimo. Condividete questo video! Ciao a tutti! Grazie a tutti!